Vuoi sedurre? Impara almeno la grammatica! Ci sono persone che vogliono sedurre nelle chat, vogliono sedurre anche uomini o donne di qualità e poi non sanno scrivere grammaticamente in modo corretto in italiano. Scrivono, sbagliano i congiuntivi, mettono l'h dove non ci va, non mettono l'h dove ci va, sbagliano completamente la sintassi, non sanno mettere assieme! Un soggetto, un verbo è un complemento oggetto, scrivono frasi incomprensibili, in più oltretutto fanno anche delle approssimazioni, mettono la x, mettono qua, mettono là e diventano, questa è una regola per iniziare a voler sedurre, impara perlomeno la grammatica perché altrimenti troverai catramisti e basta! Grazie! Grazie!